Poi, vabbè, qua impazzite, qua c'è il vegan. Poi non basta il vegan, c'è il bio-vegan. Cioè, non basta una setta, due sette insieme. Questi cibi bio-vegan, praticamente, più sono senza funzionalità e più costano. A Roma c'è, sotto casa c'è un bar pasticceria, si chiama Erpozzo del Gelato. Io entro dentro la mattina per fare cornetto e cappuccino, entro dentro, c'è il cornetto enorme, è così, un cornetto enorme. Mi guarda, se buttano la Nutella, se buttano la crema, fa un tuffo in una panna, salta su, tiè, magna, me li portacci tua, magna. Ottanta centesimi. Stamattina esco dall'hotel, cornetto bio-vegan, di farina di camus camusciato, coi semi di miglio decorticati in chicchi, te lo dà, lo mangi così. Senza grassi animali, senza zuccheri, senza grassi idrogenati, senza farina, senza lieviti, senza un cazzo. Niente. Gli dai 5 euro e te ne vai, non mangi niente. Gli dai 5 euro e te ne vai, non mangi niente. Gli dai 5 euro e te ne vai, non mangi niente. Gli dai 1,5 euro e te ne vai, non mangi niente. Gli dai 1,5 euro e te ne vai, non mangi niente. bti desiree live save. Gli dai 3,5 euro e te ne uma ko 매o qui.